Per la sesta edizione, quest'anno abbiamo scelto la Costiera Amalfitana, è una location eccezionale? Sì, quest'anno dopo l'edizione passata a Sorrento abbiamo deciso di coinvolgere il territorio sanitario, in particolare la Costiera Amalfitana, ricca di tradizioni, di storia, di cultura, di prodotti enogastronomici e soprattutto anche di personaggi legati al nostro mondo, al mondo delle attrezzature per quanto riguarda la Deluca, SRL e al mondo food per quanto invece riguarda l'azienda Lamberti. È un'edizione che si arricchisce sempre più per tutti gli addetti ai lavori ma non solo? Sì, quest'anno il programma è veramente ricco, abbiamo coinvolto diversi personaggi, ci saranno diversi laboratori, ci sarà un laboratorio specifico per il mondo pizza, ci sarà un laboratorio specifico per il mondo della cucina e della ristorazione, ci sarà un laboratorio per seguire anche le nuove tendenze del mixology e quindi del bar e poi i vari convegni, la presenza di personaggi importanti quali Salvatore Deliso, il concorso dell'Aibes, il concorso dell'Associazione dei Cuochi, quindi veramente un programma ricco per questa edizione. Quale novità, diremmo così, potremmo definire la ciliegina sulla torta? Il nostro mondo è un mondo che è in continua evoluzione, quindi in realtà è molto bello proprio per questo motivo, perché quello che si trova nel piatto oggi, seppur magari la base è la stessa, è completamente rivisto, rivisitato, rielaborato, riproposto in varianti senza snaturarlo mai, quindi una delle tendenze di quest'anno sarà sicuramente tutto quel mondo legato alla pizza e quindi alle nuove levitazioni molto lunghe con impasse d'artitrata l'azione. Poi ci sarà il mondo del bar con il mixology bar, con le nuove tendenze appunto voglio dire del bere, del bere in una maniera differente e infine anche nel mondo della cucina ci saranno due o tre proposte interessanti fatte da aziende e da chef di livello internazionale. L'enogastronomia la fa sempre da padrone nell'ambito del turismo, dell'attività di accoglienza e quindi bisogna adeguarsi. Ma adeguarsi sicuramente perché un aspetto importante che sta emergendo sempre più è proprio il concetto del turismo legato al food. Oggi il turista richiede sempre di più di vivere delle esperienze gastronomiche dedicate e noi non possiamo esimerci da questa considerazione quindi come azienda abbiamo il dovere di dare delle risposte attraverso tutta la filiera perché oggi abbiamo a che fare con una cliente che era molto molto più esigente. Fino a qualche tempo fa il cliente era una persona da accontentare che in qualche modo si aspettava delle novità. Oggi abbiamo un cliente esigente che in qualche modo diventa anche giudice di che cosa gli si viene presentato. Quindi è molto più critico rispetto a qualche tempo fa. Una sesta edizione che si presenta come al solito ricca. Sicuramente ogni anno la community di Orecost si arricchisce e contagia sempre più operatori del settore. Quest'anno abbiamo ulteriormente arricchito il nostro palinsesto con tutta una serie di laboratori dedicati al mixology, al food e anche al concetto pizza. Infatti quest'anno una delle novità che abbiamo comunque inserito è la presenza della Scuola Italiana Pizzaioli che è una delle associazioni più autorevoli sul palcoscenico nazionale della pizza. e tra l'altro anche una delle più datate se vogliamo. Hanno se non sbaglio un'esperienza superiore a 30 anni se non sbaglio.